Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale, iniziamo questo lunedì 16 la nostra nuova settimana, Pippo torna a casa, ve lo leggo, l'ho scritto ma ve lo leggo perché non devo dimenticare nessun passaggio, dicevamo Pippo torna a casa percorrendo una strada in senso vietato perché c'è una festa più importante di lui, parcheggia la carrozzina e poi sale al quarto piano, tolte le scarpe indossa le pantofole ed il pigiama, prepara la cena e quando ripone uno scarto di cipolla nel cestello si accorge che la busta è piena e che sul balcone ne ha altri due nel mastello, ha avuto ospiti, è tentato da buttarle dalla finestra ma il suo animo ecologico, il suo forte senso civico, seppur ferito non glielo consentono, con la santa pazienza si riveste e piano piano scende con il pesante mastello, tre buste, nel vano scala incontra un condomino che gli fa notare l'ora e cioè che sono le diciannove. Le prime persone a cui pensa sono il sindaco e l'assessore all'ambiente, ritorna su a quarto piano. Cina e poi finalmente alle ventuno scende il contenitore puzzolente delle tre buste. Ecco, ora può tornare in pigiama e pantofole, ma si chiede, disabile, costretto a violare il codice della strada, stanco, non ho potuto andare prima a letto, il porta a porta lo pago io, ma per quale motivo devono essere degli bip bip? A vincolare, mutare e peggiorare la mia vita, ricordo bene quando dissero i due che avrebbero fatto gli interessi dei cittadini. Ma non finisce qui perché il giorno dopo fa un giro in carrozzina in piazza e si imbatte in montagne di rifiuti. E viva, e viva, acqua viva, bellissima, esclama. E quindi, e viva, e viva, spazio alle immagini. Queste sono delle transenne perché parleremo in futuro, nei prossimi giorni, lo so, lo abbiamo già fatto, ma con altre spaccettature, con altri approfondimenti, della questione delle transenne ballerine, che sono poi ridicole e che per alcuni diventano ostacoli. Lì ci sono le strisce pedonali, c'è un marciapiede, quelle transenne lì non ci devono e non ci dovevano essere. Un importante incrocio, un'importante strada, non perché a chi si è intitolata la strada è un personaggio più importante di altre strade, di altre vie, no, ma perché è centrale, via Monsignor Cirielli, angolo via Maria Scarela, strada centrale, strada che viene tenuta in quelle condizioni, con le transenne ballerine. Forse si sono dimenticate di spostare transenne perché si sono fatte una birretta, ma sì, fatevi pure la birretta, ma non lasciatela per strada. Non solo la birretta, ma abbiamo anche mangiato e abbiamo anche avuto la possibilità di usare le posate perché siamo dei ragazzi o delle ragazze o degli uomini o delle donne, siamo degli esseri umani ben educati e quindi non mangiamo con le mani, ma mangiamo con le forchette, ma non siamo tanto educati da lasciare quella porcheria, forchette, fazzolettini, tovagliolini e piatto in plastica per terra. Qui c'è un insieme, un collage non fatto da noi, ma dalla società Acquaviva delle Fonti, che non è calcistica sportiva, sociale o comunale, la nostra società Acquaviva delle Fonti che mostra il grado, il livello proprio di chi noi ospitiamo o di chi è residente o di chi comunque ci rappresenta. Io parlo così a livello generale, ma come è mai possibile? Quei cavi in quelle condizioni, quella birretta lì, quelle ciabattine lì, quelle spine, andiamo avanti per piacere, non fermatevi con le foto, andiamo avanti. Queste immagini sono uno schiaffo a chi a Roma o è ministro, o è presidente del Consiglio, o parlamentare, o comunque sindaco, assessore, sono uno schiaffo a queste persone che rappresentano lo Stato e si sforzano di legiferare, andiamo avanti per piacere, per dare maggiore sicurezza ai cittadini e queste sono le condizioni in cui consentono chi amministra e chi deve tutelare e rappresentare la legge, consentono che avvenga ad Acquaviva delle Fonti. Però siamo bravi a mettere i segnali, gli avvisi. Questo che si chiamerebbe carta igienica in italiano e non ve lo dico in dialetto, non va posta in quella maniera ma con una segnaletica stradale, quindi o il Comune di Acquaviva è alle pezze, non ha i soldi per posizionare un cartello, oppure sono così superficiali, così irrispettosi di qualsiasi codice che fregandosene mettono gli avvisi in queste condizioni. Quindi scopriamo che si tratta di una sagra, ma dove hanno posto questo avviso? Chiunque sia stato, sarà andato, io mi auguro, con la mascherina, perché se non è andato con la mascherina ha dovuto respirare lo schifo, il cattivo odore e anche malsano e che provoca molti danni degli escrementi elementi dei piccioni. Quel guano sì, lo sappiamo, lo abbiamo già detto, ma non è colpa nostra se questa amministrazione comunale non è capace di far purire, non tutti i giorni, ma almeno una volta alla settimana, l'ingresso del teatro. Saranno bravi a parlarvi del teatro comunale quando saliranno durante la campagna elettorale sulla Cassa Armonica per dire che hanno avuto dei fondi, che avranno dei fondi, che riapriranno il teatro, ma non sono capaci di pulire davanti al teatro, figuriamoci chi dovrà gestire questo famosissimo teatro di Acquaglia delle Fonti che sta costando fior di milioni di Euro alla comunità, ai cittadini e ancora dobbiamo chiedere ai cittadini se veramente vogliono spendere tutti questi soldi per il teatro comunale o a la comunità altri obiettivi, altri interessi, ma soprattutto altre esigenze. Non so quel bottiglione se conteneva vino, se conteneva degli additivi chimici, se conteneva non so che cosa, un liquido se un bidone in vetro conteneva del liquido, lì non ci doveva essere. Questa è la porcheria che ci ha dato la sagra, ma noi non vogliamo, io non dico queste parole perché ce l'ho con la sagra, ma ce l'ho con chi nel momento in cui decide di dare le autorizzazioni, e non voglio parlare nel meno degli organizzatori, fermiamoci su questa immagine, non si preoccupano di garantire agli utenti, agli avventori e ai cittadini che vi siano gli spazi giusti, i contenitori giusti e sufficienti per poter gettare la loro immondizia, quanto hanno bevuto il bicchiere di plastica, qualsiasi cosa. Ma non possiamo procedere perché il tempo è tiranno, ma guardiamo la prossima fotografia, queste sono, questi sono i cosiddetti bagni chimici. Ora, io non so, inquadrate a me per piacere perché, guardate, io vorrei avere davanti a me non chi ha posizionato materialmente quei bagni lì, ma chi ha disposto che fossero messi lì. Come vorrei avere davanti a me degli amici, quindi dei soggetti diversamente abili, che avrebbero dovuto avere il diritto di poter usufruire di un bagno chimico. Ora, mi dovrebbero spiegare sia gli amici diversamente abili, sia il soggetto che è disposto di mettere lì quel bagno chimico, come dovrebbero fare, come hanno fatto praticamente i soggetti diversamente abili, chi è in carrozzina, ad usufruire di un bagno se non c'è nemmeno uno scivolo per poter salire su quell'alto marciapiede, perché non è di quelli bassi, di quelli vecchi, di quelli antichi, di quelli storici, no, è bello alto, perché almeno il marciapiede del teatro comunale, una precedente amministrazione comunale è riuscita a realizzarlo e a spendere fior di quattrini anche lì. Ora, come faceva un soggetto diversamente abili in carrozzina ad accedere al bagno, alla toilette? Se lì non c'è uno scivolo, deve volare, deve farsi prendere in braccio, siete degli incompetenti, vanno licenziati, questo devono fare i parlamentari, fare una legge affinché in un comune come Acquaviva delle Fonti, se si acclara che ci sono degli incompetenti che continuano a danneggiare i cittadini, debbano essere mandati a calci nel sedere a fare altro lavoro. Se questi incompetenti poi, oltre a essere dipendenti, sono politici, un calcio in più ci vorrebbe, perché non dovevano nemmeno candidarsi a rappresentare la cosa pubblica, perché non solo non hanno la competenza, ma non hanno nemmeno la sensibilità per osservare e verificare che quanto stanno facendo è una semplice violazione alla dignità di chi dovrebbe usufruire di quei bagni. Approfondiremo quanto è successo al campo sportivo, quell'atto deplorevole che è stato fatto ai danni della pista dell'atletica leggera. Approfondiremo cosa sta succedendo tra chi presenta interrogazioni, a chi scrive frasi che risultano magari dettate dalla logica di Mosè, dalla Sacra Bibbia. Ma quanto voglio dire a proposito di questo è che gli stessi soggetti che tanto si stanno interessando di questa situazione, forse per cinque anni mi fate vedere un po' di bottiglie di birra, forse in questi cinque anni non hanno mai parlato con chi ha subito furti negli appartamenti, non hanno parlato con chi ha subito furti nella propria attività commerciale, non hanno mai parlato con chi ha subito un borseggio, non hanno mai parlato con quell'anziano che è stato scippato all'uscita dell'ufficio postale ed è stato costretto e ricoverato in ospedale per i danni subiti e per tanto tempo. Ora il problema qual è? Non strumentalizziamo le cose, ci sono fatti ancora più gravi a partire dalla pura defluit che sono successi e continuano a succedere ad Acquaviva delle Fonti che meriterebbero l'attenzione del Ministro Minniti e non una semplice e io direi di routine in altri comuni che è avvenuto nel campo sportivo. I politici di Acquaviva si devono indignare e fare la voce grossa per il fatto che si è svolta una sagra ad Acquaviva delle Fonti e non ha per niente preso in considerazione rispettata le norme dettate da quello stesso Ministro a cui oggi si rivolgono per chiedere che cosa? Che si rispetti la legalità ad Acquaviva delle Fonti nel momento in cui c'è un comune che rilascia delle autorizzazioni e non è capace nemmeno di tutelare i posteggi per i diversamente abili, non è capace nemmeno di far pulire le strade, non è capace nemmeno di fare il suo dovere. La sicurezza quando si è svolta la sagra ad Acquaviva delle Fonti non c'è stata, è qui che dovrebbero intervenire i politici di Acquaviva delle Fonti, non c'è stata sicurezza, non c'è stata salvaguardia dell'ambiente e della salubrità e della qualità della vita che dovrebbero portare il comune di Acquaviva delle Fonti ad essere proprio uno dall'ultima ruota del carro della nostra regione e invece forse in maniera propagandistica si ricordano di quanto è avvenuto allo stadio, c'è bisogno di mettere tutto insieme per poter chiedere al Ministro non di pizzicare i bontemponi o i farabutti che hanno fatto quello allo stadio o al campo sportivo, perché ce l'auguriamo che vengano pizzicati e abbiano la giusta pena, ma finché ad Acquaviva si rafforzi magari l'organico dei carabinieri o no Sindaco Carlucci? Forse Acquaviva ha bisogno dei vigili urbani che stiano per strada o no Sindaco Carlucci? Forse Acquaviva ha bisogno anche di tutti i mezzi dei vigili urbani che siano efficienti e funzionino e non siano ricoverati come si fa con i malati o no Sindaco Carlucci e allora non strumentalizziamo quanto è avvenuto nel campo sportivo di Acquaviva delle Fonti, ma prendiamo in esami tutti gli atti vandalici e tutti i danni subiti dalla comunità acquavivese e gravi anche dove c'erano anche le telecamere, parliamo di Piazza dei Marti di 1799, parliamo di Piazza San Paolo, parliamo di ogni angolo della nostra città dove come quando avete organizzato e patrocinato Strada Chiusa lo scorso agosto 2017 avete mostrato che anche lì la sicurezza non c'era. Il Ministro Minniti, cari amministratori e cari politici sia se consiglieri, sia se assessori, sia se sindaco parlamentari, al Ministro Minniti deve essere comunicato quanto è avvenuto in questi 5 anni affinché forse si renda conto di che cosa è la comunità acquavivese, di che cosa ha bisogno la comunità acquavivese e di come la politica ma l'amministrazione ha ridotto la nostra città e se ne frega della sicurezza dei cittadini. Se poi ci sarà qualcuno che vuole approfondire le cose, sarò molto contento di portare documentazioni, testimoni e documenti affinché si possa una volta per tutte individuare chi è responsabile di quelle immagini, di quella documentazione e di quei fatti affinché ce li togliate davanti ai pieti perché acquavive da anni che sopporta questo malessere e ogni tanto nasce il caso tipo del campo sportivo in cui si fa tanta propaganda ma poi finisce tutto lì. Non ci dimentichiamo quanto è avvenuto all'edificio utilizzato come ex istituto scolastico. E anche lì la cosa era grave, da allora già ci si doveva muovere per aprire un osservatorio serio ad accuogliere le fonti, una commissione sulla sicurezza sociale che la consigliera comunale avvocato, il nome per cortesia? Pellecchia, Luisa, un lapsus, un voto di memoria, non tutti sono infallibili, dovrebbe invece fare in modo che la sua maggioranza la faccia lavorare perché quanto avviene oggi, quanto è avvenuto ieri e quanto continuerà ad avvenire, è colpa della politica, mettetevelo in testa, perché se foste politici di serie A avreste già avuto la forza di migliorare l'ordine pubblico e la sicurezza in queste città, aumentate l'organico, montate i servizi di videosorveglianza, fate in modo che l'istituto di vigilanza della fonte non debba andare a aprire e chiudere un comune, ma debba vigilare di più sulla città pagata dalla comunità acquavivese come lo si può fare, una seria convenzione, non siete capaci, siete incompetenti, siete incompetenti, non c'è altra motivazione. Un saluto a voi tutti.